Questo è il motivo per cui io personalmente voterò questa legge, ma stiamo molto attenti, è un monicuto che faccio a tutti in quest'Aula, a non aprire le porte a una pratica gravissima. Credetemi, non si può essere madri per dono, donare un figlio che sta dentro di voi, che cresce dentro di te e con cui c'è uno scambio cellulare, non solo cellulare, anche biologico, importantissimo. Non si può pensare che una donna faccia un bambino, abbia dentro di sé un bambino e poi, per dono, lo dia ad un'altra coppia. Lo trovo aberrante e lo trovo un passo non verso la modernità, ma un passo verso il Medioevo. Grazie. Escritta a parlare, onorevole maestri, ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. Questa legge ha due primati. Arriva ultima in Europa a disciplinare la materia delle unioni civili ed è anche in Europa la più arretrata. Si è chiaramente voluto disancorare l'unione civile di nuovo conio dall'articolo 29 della Costituzione, perché l'unione tra persone dello stesso sesso non sarebbe famiglia, non sarebbe società naturale e non potrebbe approdare a un matrimonio tradizionalmente inteso. E la si è voluta ricondurre alle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione, formazioni sociali dove si svolge la personalità dell'individuo e dove abitano i diritti inviolabili dell'uomo, che la Repubblica riconosce e garantisce. Qualcuno, per l'esattezza alcuni politici omofobi, intolleranti, oscurantisti, che hanno persino denunciato un giudice minorile di fama nazionale come la dottoressa Melita Cavallo per aver autorizzato la stepchild adoption in una famiglia con due papà, pensa forse di avere raggiunto l'obiettivo discriminatorio di costruire uno status di serie B per le unioni omosessuali, ma in realtà ha aperto una crepa vistosa, suo malgrado, nella diga dei diritti civili. Sì, perché l'articolo 2 della nostra preziosa Costituzione ha una potenza espansiva enorme e laddove i diritti inviolabili dell'uomo incontrano il principio dell'eguaglianza e della non discriminazione, tutti gli argini artificiali, costruiti da norme votate da maggioranze silenti, pavide, allineate e conformiste, saltano. I diritti fondamentali delle persone sono come l'acqua, che nessuna barriera può fermare ma solo provare a frenare e ostacolare. L'acqua, con la sua liquida mitezza e ostinazione, così come i diritti civili, continuerà a scavare, a trovare fessure in cui penetrare, a farsi lentamente strada. E dove le leggi, come quella che questo Parlamento si accinge a votare, costruiscono invece strettoie, l'interpretazione costituzionalmente orientata delle Corti nazionali ed europee e le norme convenzionali, come l'articolo 8 della CEDU, che assicura ad ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, spalancano orizzonti nuovi, attraverso la pazienza, la dignità e l'ostinazione degli uomini e delle donne discriminati, che chiedono giustizia. E attraverso la lungimiranza, l'intelligenza e il buonsenso dei giudici che riconoscono e garantiscono i diritti negati. Non meno importante è la battaglia di tanti intellettuali, grandi intellettuali come l'onorevole Michela Marzano, purtroppo vox clamantis in deserto nella sua maggioranza. C'è poi una discriminazione macroscopica, ma di cui poco si discute, ed è quella annidata nella seconda parte del provvedimento, dove trovano disciplina le convivenze di fatto. Queste convivenze escludono, per esempio, le persone singole dello stesso sesso, non legate da altro tipo di unione, ma tra le quali intercorra un legame di parentela e che convivano solo allo scopo di darsi reciproca assistenza morale e materiale. E non è una scelta politicamente neutra, quella di aver escluso dall'impianto della legge sulle unioni civili proprio le adozioni dei figli del partner, che oltre 700 tra magistrati ed avvocati avevano chiesto di non stralciare. Qui la protervia ammantata di moralismo e la rinuncia ad una visione laica della società e delle istituzioni entrano con violenza nel territorio sacro dei diritti dei bambini. Discriminare i bambini in base all'orientamento sessuale dei propri genitori è qualcosa di profondamente ingiusto. Voglio dire con forza, qui, oggi, che l'ingiustizia scritta nelle norme sarà sicuramente spazzata via dalla giurisprudenza e dalla mobilitazione appassionata della società civile e delle associazioni. Ma quella ingiustizia, consumata sulla pelle dei bambini arcobaleno, scritta nero su bianco in una legge, lascia una traccia sporca e inquinata nella storia politica e giuridica di questo Paese, nella sua tradizione di civiltà e nella sua proiezione internazionale. Possibile che ha per simbolo il segno aritmetico dell'uguale. Non voterà una legge che moltiplica le discriminazioni, sottrae tutele ai bambini e divide le famiglie. Da una parte quelle con tutti i diritti, dall'altra quelle con qualche diritto in meno. Alternativa libera e possibile, che è il nome della nostra componente, è anche la sintesi di un lessico limpido che vuole parlare di una politica autenticamente laica, umile e coraggiosa, al servizio delle persone, curiosa e impegnata per il superamento delle diseguaglianze e la promozione dei diritti civili. Siamo qui a denunciare che un'altra legge era possibile e che una maggioranza politica alternativa a quella del compromesso e della discriminazione per approvare questa legge era possibile. Il governo Renzi e la sua maggioranza non hanno avuto il coraggio e la libertà necessari per scrivere una legge giusta fino in fondo. Hanno spento con una pennellata di grigio tutti i colori dell'arcobaleno. Grazie, iscritti a parlare, non l'ora di roccella, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. La legge Renzi-Alfano sulle unioni civili non serve per riconoscere i diritti alle coppie dello stesso sesso. Se si fosse voluto questo, si poteva fare una legge largamente condivisa come dimostra il fatto che tutti i gruppi parlamentari hanno presentato disegni di legge sul tema. Chi intende tutelare la famiglia così come è definita dalla nostra Costituzione, chi ne vuole affermare lo status unico afferma anche la libertà di scelta del singolo e i diritti di assistenza reciproca e solidarietà fra persone che, a prescindere dall'orientamento sessuale, scelgono altre forme di unione. Una legge così concepita, quindi, era un obiettivo abbastanza semplice da raggiungere. La scelta, invece, è stata molto diversa. Quello che si voleva non erano i diritti dei conviventi, ma la destrutturazione della famiglia e soprattutto della filiazione e della genitorialità. Per arrivare al bambino come prodotto reperibile sul biometro,